Chiunque ha avuto bisogno di un vestiario per il lavoro sapeva che qua avrebbe trovato tutto. Stiamo parlando di 30 anni, tanti tipi di lavoro che sono anche cambiati, l'esigenza di modificare l'abbigliamento, di avere anche abbigliamento che garantisca sicurezza. È davvero una bella intuizione di 30 anni fa di Norma e adesso un'attività familiare portata avanti dalla figlia. Davvero sono molto contento, tutte donne, molto tenaci.